Il contesto accademico in cui nasce il Dams nel 1970 è un contesto abbastanza peculiare e che a posteriori è anche un po' difficile da immaginare se si parte dalla conformazione attuale e dall'idea che attualmente si ha del Dams. Insieme al collega Claudio Bisone abbiamo fatto un lavoro basato per il momento sullo spoglio dei verbali della facoltà di lettere e filosofia e tra le prime cose rilevanti che abbiamo trovato c'è per l'appunto un verbale del febbraio 1970 da cui veniamo a sapere che in quella data era già operativa una commissione composta da tre saggi incaricati di progettare un corso di laurea inter-facoltà. Questi tre saggi erano Benedetto Marzullo, quindi un insigne grecista, Paolo Prodi, uno storico della modernità e un giurista come Giuseppe Ignazio Luzzatto. Marzullo incaricato, comunque rappresentante della facoltà di lettere e filosofia, Prodi rappresentante della facoltà di magistero e Luzzatto in rappresentanza del senato accademico come membro autorevolissimo del senato accademico. Il primo progetto del DAMS, quindi assai curiosamente, è un progetto di un corso di laurea inter-facoltà a cavallo tra lettere e magistero. Questo progetto in questi termini verrà nel corso degli anni abbandonato, non senza problemi, non senza problemi, perché da un lato il magistero reclamerà i suoi diritti sulla formazione di questo corso di laurea, dall'altro anche all'interno delle facoltà di lettere ci saranno delle tensioni tra la facoltà come organo e gli istituti che all'epoca costituivano in qualche misura l'ossatura di questo corso di laurea. Uno dei primi problemi, nonché uno dei motivi discriminanti rispetto alla decisione poi della facoltà di lettere e filosofia di appropriarsi di fatto di questo progetto, è dovuto alla disparità, diciamo, di livello di ingresso per gli studenti provenienti dalle scuole superiori sulle due diverse facoltà. È cosa risaputa che ai corsi di laurea della facoltà di lettere e filosofia si accedeva con una diploma di tipo quinquennale, liceale o altro, comunque della durata di cinque anni, laddove il corso di magistero era accessibile anche ai diplomati e alle diplomate dell'istituto magistrale che allora prevedeva anche appunto una durata ridotta in quattro anni. Questo è uno degli scogli probabilmente solo formali rispetto ai quali quest'idea si arena. Nel corso degli anni il progetto di un corso di laurea inter-facoltà verrà abbandonato e verrà elaborato da una serie di personalità al cui centro c'è comunque Marzullo. L'idea di una facoltà, di un Dams autonomo rispetto alla facoltà di lettere e filosofia, anche questo progetto verrà in un secondo momento rigettato. Le vicende legate per l'appunto al Dams come facoltà autonoma sono estremamente delicate. La ricostruzione può avvenire solo a posteriori e tramite una serie di dichiarazioni che vengono rese dai protagonisti, lo stesso Marzullo, Barilli, Francesco Arcangeli, Capitani, in consigli di facoltà anche di molto posteriori rispetto agli eventi. Quello che ci è dato capire, ovviamente con beneficio del dubbio e la necessità di successive indagini, è che a ostacolare o comunque a non approvare completamente l'idea di un Dams lontano, esterno da lettere e filosofia siano da un lato il senato accademico e il rettorato, quindi un veto che arriva dall'alto, questo però lo sappiamo solo dal 78, da una serie di dichiarazioni rese da Capitani. Dall'altro una sorta di opposizione interna da parte dell'istituto di storia dell'arte, in particolare Arcangeli e Barilli, su questo hanno delle resistenze notevoli. Il progetto quindi naufraga e il Dams mantiene il suo statuto che avrà poi per gli anni successivi come corso di laurea interno alla Facoltà di Lettere e Filosofia. Allora, il contesto accademico in cui nasce il corso di laurea, il Dams, ha delle condizioni di base, preventive, che rendono possibile la nascita di un corso di laurea così originale per l'epoca in cui si colloca. In realtà domina all'inizio degli anni 70 un po' di confusione su quale assetto istituzionale dare nel corso di laurea stesso. Questo perché? Questo avviene perché i soggetti coinvolti nella nascita di questo corso di laurea appartengono a generazioni diverse, vengono da esperienze accademiche diverse e quindi necessariamente contribuiscono come possono a definire un quadro piuttosto stratificato e complesso. Mi piacerebbe leggere da un documento preparatorio che abbiamo consultato e che è stato presentato ed è presente nei verbali dei consigli del corso di laurea in cui si dice letteralmente tale corso di laurea Dams si propone di offrire a tutti coloro che per inclinazione artistica e per necessità personali siano interessati alle discipline in oggetto una formazione scientifica e culturale adeguata articolata su tre livelli. A. Specifico, rivolto a quanti opereranno in ambito creativo, esecutivo e critico. B. Tecnico, rivolto a quanti opereranno in ambito strumentale ed applicativo. C. Professionale, rivolto a quanti aspirano alla ricerca oppure intendono dedicarsi all'insegnamento di tale disciplina nelle scuole. Quindi, come si può vedere, da questo progetto originale emergono alcune linee che verranno modulate e riarticolate nel corso degli anni e in cui alcuni elementi avranno il sopravvento rispetto ad altri. Però quello che caratterizza da subito l'offerta Dams, l'idea di base, è quella appunto di tenere insieme cose diverse. Cioè tenere insieme una tradizione che è quella degli studi umanistici applicati a materie nuove e dall'altra parte però invece spingere su un aspetto per l'epoca molto moderno che era quello della professionalizzazione dei lavori tecnici legati al mondo dello spettacolo. E quindi da questa idea in realtà poi nasce un dibattito lungamente articolato.